popolo marinese buona sera siamo arrivati a sera siamo anche un po stanchi vi devo dire la verità però abbiamo anche fama quindi non ci rimane altro che andare a mangiare una buonissima pizza e dove andiamo a mangiarla ma alla rustica al numero 98 di via maiorca a marina di pisa quindi andiamo subito a conoscere elisabetta venite ok siamo qui all'interno del ristorante pizzeria la rustica a marina di pisa e siamo con la titolare elisabetta calise che adesso in una manciata di secondi ci racconta un po l'istoria di questa azienda buonasera e dal 93 che noi siamo qua nati come una piccola rusticceria di paese diventate ad oggi un ristorante pizzeria abbastanza conosciuta e grazie anche a tutti i marinesi vi ringrazio tantissimo e non posso far altro che augurarvi un buon natale un felice anno nuovo e lo stesso facciamo noi vi auguriamo un buon natale un felice anno nuovo e ci vediamo alla prossima ciao ragazzi ciao